sono tornato in un nuovo video di gta 5 andiamo a un parkour e non l'ho fatto mai e allora cominciamo aspettiamo 5,4,3,2,1 0,4 ok cominciamo stiamo tutti contro tutti quindi è difficile vincere perché stiamo tutti contro tutti quindi adesso ci ammazzeranno cadiamo questi bastardi poi dicono no hanno già preso le armi no ovviamente voi fate i scemi questo è già prima di me perché quello sotto di me mi ha fatto cadere ma sembra che si sta bloccando muri ecco oh 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 mannaggia speriamo che muore speriamo che muore no no questo gatto come già sta lì sopra raga cacchio ed è un mio amico gatto no no cosa è pensavo che era caduto speriamo che non mi uccide gatto com no si è suicidato allora forse è quello che si è suicidato ma chi lo sa ok andiamo andiamo con calma stavo quasi per cadere allora andiamo cacchio raga ha raccolto il no 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 dai ma perché no ha messo anche il limite oh lascialo stare tu lascialo stare capito io vado a fare il parkour ciao oh mi è mica ma dai mi ha già preso le armi ma chi è poi ma non mi ha messo la raga shhhh dai muori oh vieni qua vieni qua oh oh ma tu stanno le armi ecco no la la no facciamo una cosa ci dobbiamo nascondere e tu non ci deve prendere non me lo spero non ci piglio speriamo che si possa si può salire no mannaccia a te ma chi è questo no ma che cuore al primo volo no no ma sbaglio o si può prendere le armi senza fare parkour no 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 tu non mi prendi cattivo bambino cattivo bambino no stuporco speriamo affaccia presto i 70 uccisioni i 70 uccisioni no bagliati non mi uccidere vai nasconditi non mi uccidere cattoco non mi uccidere oh ma non mi uccidere maledetto 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 vuoi fare affare con me allora te te io non li voglio fare te no è sempre questo sempre questo sempre questo vediamo sono penulti no tu non mi prendi brutto cattivo oh oh andiamo a intacchiappare quello no non c'è ma quello vieni qua no la bomba no cos'è la mina ma come si dice come si chiama vieni qua oh lascialo stare capito lascialo stare al mio amico vieni qua pigliatela con i livelli più grandi ne oh 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 che vuoi fare ne scappa scappa fa giro giro tondo papà vieni 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 ma vieni oh ascia sta al mio amico oh muro un attimo è mucile è mucile però è rimasta con poca vita se non mi sbaglio non lo so non ci sono è invisibile no non sono invisibile beh normale allora tu mi ha ucciso quello di prima quello che mi ha ucciso quello di prima è per forza meglio uccidere ma puoi uccidere quell'altro non va meglio uccidere uccidere baa e non ci non ci sta grazie oh a bufano un po' troppo ecco no no com'era pensavo di saltare sopra la pianta magari però non so se si può fare no 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 a me no a me no non te ne vuoi andare di nuovo là dentro ok però tu non mi colpisci se sto qua dietro ma col bazooka oh ma ancora tu ancora tu no ancora tu ancora questo oh oh no pensavo molto sopra la mamma ok ok vai grande si si ma qua oh no 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 scappa scappa si può citare me ne posso andare oh oh rabbit oh 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 ha fatto tripla così mannaggia a te noo mi potevi provare mi potevi portare fino là non mi colpi non mi colpi ma andate tutte e due lì dentro perché che deve capitare senta un bambino e la vedo muore ecco bravo attendoci uno che sto salendo non ci sa che ecco come si e la vedo è lui è lui no non me devo fare come si dice ma non so cosa come devo fare come farmi prendere forse così si forse così qui no per girare troppo tempo ok vai vai continuate a prendervi a schiaffi intanto ecco una bruciata no no dai fai bravo fai bravo easy no no vai ti prego ti prego ce la deve fare raga ce la deve fare ce la devo fare ce la deve fare senta me non ce non ce la faccio madonna non so no io devo uccidere non uccidere è cattivo questo un po' attivo allora meglio che non ci vado oh io ti ho salvato prima ti ho salvato prima no per te l'ho ucciso tu ma un colpo gliel'ho dato io oh ma che vuoi fare voglio più andare ti prego no tu non ce la fai ma levati dai le scatole dai devi rompere sempre le scatole ma dai ma levati dai si uccidilo grazie oh a me no a me no ti prego ti prego prego uaaaah eiii cià vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua oh ce la fa si l'aereo è mio no l'incontro dammi l'aereo dammi tutto devo provare a cam devo provare ecco no non so se che ci faccio aspetta se vado là aspettate un momento che ci faccia da andare l'ha accettato l'ha accettato l'ha accettato forse l'ha accettato forse l'ha accettato forse così l'ha accettato ma magari un secondo non è accettato non è accettato un millimetro proprio ci voglio provare no non si può facciamo così ecco non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio troppo vedi qua ho deciso qui ma no tu sei ma come hai fatto a prendere le armi ma ma questo brava io so rubare i carammati è molto molto spesso nooo non so se c'è il bazooka questo no non mi sotterrà vieni qua vieni qua vieni qua ma stanno tutti dietro i te per forza a me cioè per forza a me per forza a me ragà per forza a me per forza a me vai alla cro noo fermati tutto cattivo ce la stavo facendo ragazzi ce la devo fare è un enorme sto troppo lento aspettami non mi uccidere gatto pomo ma sono sesto vabbè perchè finisci sempre così vabbè a me è perduta ragazzi questo video finisce qua ci vediamo alla prossima per la prossima per la prossima per la prossima